Il colloquio è un momento molto importante durante la selezione perché non viene valutato soltanto le capacità e le abilità del candidato ma viene valutata in generale la persona del candidato quindi il suo modo di presentarsi, il suo modo di parlare e quindi è molto importante il linguaggio del corpo in quel particolare momento Al Jobsud, nell'area training, troverete dei consigli utili e pratici per migliorare questa vostra e avere maggiore consapevolezza sul modo di presentarsi quindi vi invito a partecipare al Jobsud tutte le persone che hanno voglia di mettersi in discussione e di venirci a trovare nell'area training